Musica E ben trovati sul canale 15 per informazione regionale di Asperia TV in apertura un'ampia pagina dedicata alla cronaca partiamo dall'arresto dopo 17 anni di latitanza di Edgardo Greco accusato di duplice omicidio e condannato nel 2014 all'ergastolo Greco è stato individuato in Francia a Saint-Etienne dove lavorava in un ristorante come Cuoco l'uomo deve scontare l'ergastolo per l'omicidio dei fratelli Stefano e Giuseppe Bartolomeo avvenuto a Cosenza il 5 gennaio del 91 e per il tettato omicidio di Améle Mosciaro avvenuto sempre a Cosenza il 21 luglio del 1991 i particolari nel servizio Faceva il pizzaiolo da almeno tre anni in un locale di Saint-Etienne in Francia dove si era stabilito dal 2014 Edgardo Greco di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cosenza in collaborazione con le unità catturandi italiane e francese dopo 17 anni di latitanza in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla procura generale di Catanzaro Greco deve infatti scontare la pena dell'ergastolo per il duplice omicidio di Stefano e Giuseppe Bartolomeo avvenuto a Cosenza il 5 gennaio del 1991 i due fratelli furono massacrati a colpi di spranga all'interno di una pescheria e i loro cadaveri fatti sparire non sono mai stati ritrovati Greco è accusato anche del tentato omicidio di Emiliano Mosciaro avvenuto sempre a Cosenza il 21 luglio del 91 delitti immaturati nell'ambito della guerra di mafia fra la cosca Pinosena e quella per Napranno che ha insanguinato il territorio cosentino nei primi anni 90 il latitante è stato individuato grazie all'attività investigativa dei carabinieri di Cosenza coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per un arresto importante c'è anche un'evasione che sta causando non poche polemiche evaso dalla propria abitazione togliendosi il braccialetto elettronico è un malacarne dell'andrangheta condannato a 30 anni per aver ammazzato un boss e un carabiniere che lo aveva fermato a un posto di blocco vediamo sono in corso le ricerche per catturare Massimiliano Sestito 52 anni nato a Roma la cui famiglia è originaria di Chiaravalle è evaso dalla sua abitazione di Pero nel Milanese condannato all'ergastolo Sestito era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico misura concessa il 12 gennaio scorso dalla corte d'assisa d'appello di Roma che aveva accolto un'istanza di attenuazione della misura cautelare i legali di Sestito avevano presentato da tempo ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha inflitto a Massimiliano Sestito l'ergastolo per l'omicidio del boss Vincenzo Femia avvenuto a Roma nel 2013 per un altro omicidio quello dell'appuntato dei carabinieri Renato Lio avvenuto la notte del 20 agosto del 1991 a soverato Massimiliano Sestito è già stato condannato a 30 anni di carcere all'epoca dell'omicidio del carabiniere Massimiliano Sestito aveva 21 anni fermato a un posto di blocco assieme ai fratelli Vito e Nicola Grattà poi uccisi a Gagliato l'11 giugno 2010 per evitare la perquisizione dell'auto il giovane non aveva esitato a sparare al cuore contro il carabiniere Renato Lio all'epoca 35enne e poi a impossessarsi della sua mitraglietta con cui aveva risposto al fuoco aperto da un altro militare Sono tutti i lavoratori portuali i quattro arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Genova quasi un anno dal maxi sequestro di cocaina sull'MSC Adelaide proveniente da Rio de Janeiro e arrivata nel porto di Pra le misure di custodia cautelare in carcere sono state messe dal GIP del Tribunale di Genova su richiesta della direzione distrettuale antimafia i destinatari sono tutti indagati per traffico di stupefacenti la Guardia di Finanza ha sequestrato inoltre effettuato perquisizioni a Roma in provincia di Reggio Calabria a febbraio dello scorso anno era stato arrestato in fragranza Fabio Papa, un portuale sorpreso mentre prelevava 14 borsoni con 435 kg di cocaina le indagini del GICO hanno portato all'arresto dei quattro che avevano collaborato con Papa al recupero del carico di droga la Guardia di Finanza, sempre di Reggio Calabria ha arrestato due corrieri in possesso di 2 kg di cocaina i due hanno tentato di sottrarsi dal controllo ma sono stati inseguiti e poi fermati dalle fiamme gialle i militari del gruppo di Locri hanno ispezionato l'autovettura scoprendo due panetti di cocaina pura occultati in un vano posto nel motore la droga e l'autovettura sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria E uno dei più importanti qualificati economisti italiani Marcello Minenna, neoassessore regionale scelto dal presidente Roberto Chiuto al posto del dimissionario Mauro Dolce si è presentato alla stampa in Cittadella sentiamo le sue prime dichiarazioni quando ho ricevuto la proposta e l'incarico ho visto una cosa molto sfidante però sicuramente se ci applichiamo le parole la guida del presidente sono convinto che ce la faremo ringrazio il presidente Chiuto per questa grande opportunità in una regione molto importante proprio per il grande potenziale in tante numerose occasioni come economista mi sono misurato con ipotesi progettuali strategiche proprio in Calabria e credo che possa questa regione avere una grande retorazione positiva per tutto il paese le deleghe che sono state definite dal presidente mostrano un intendimento molto concreto e fattuale cercherò di fare del mio meglio con determinazione e spirito di servizio come ho sempre fatto e insomma speriamo di non deludere i calabresi e faremo tutto il possibile non posso nascondere che come economista e anche come direttore generale dell'agenzia Cise D'Ogane Monopoli di Stato sapete che ho ottenuto l'interim della direzione Calabria per quasi due anni il progetto del ricassificatore e di tutta l'area di Gioia Tauro sono progetti certamente strategici, sfidanti e importanti per tutto il paese a maggior ragione vista la crisi energetica nuove bus e treni per le ferrovie della Calabria e nuovi mezzi sono stati presentati alla stampa alla stazione di Vaglio Lise a Cosenza sostenibili, green, pronti a rendere efficiente il sistema di trasporto pubblico locale e regionale 36 nuovi bus Iveco e 3 treni Stadler saranno gradualmente inseriti nel parco mezzi di Ferrovie della Calabria che grazie al contributo della regione ha investito 600 milioni di euro il presidente della regione Occhiuto, l'assessore ai trasporti Emma Stein e l'amministratore delegato di Ferrovie della Calabria Ernesto Ferraro hanno inaugurato il parco mezzi e illustrato i progetti futuri nel piazzale della stazione di Vaglio Lise a Cosenza occorre migliorare il trasporto pubblico locale renderlo sostenibile e soprattutto occorre dare ai cittadini un servizio degno di una regione civile quindi, ha detto il presidente Occhiuto, sono molto contento di questo investimento che rinnova sostanzialmente gran parte del parco autobus di Ferrovie della Calabria sono molto contento anche del locomotore ibrido che funzionerà ad alimentazione diesel ed elettrica questo è il segno di una Calabria che non sta ferma ed anzi si muove all'insegna della mobilità sostenibile ma anche all'insegna del miglioramento degli standard qualitativi per il trasporto pubblico locale questo, ripeto, è un primo passo verso il rinnovo del parco veicolare che sarà importante permetterà di avere sicurezza, affidabilità e comfort in effetti per Ferrovie della Calabria sono previsti ancora degli innesti diciamo che questo dovrebbe essere il primo quarto di autobus che arriveranno quindi in tutto saranno 130 entro il 2023 i carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato per furto di energia elettrica un trentenne reggino già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari i militari hanno scoperto l'allaccio abusivo alla rete elettrica i tecnici Enel hanno scoperto che il prelievo irregolare di energia era cominciato dal 2018 per un danno erariale di circa 6 mila euro il giovane è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione il comune di Catanzaro punta al miglioramento delle prestazioni energetiche nel segno della sostenibilità ambientale va in questa direzione la nuova illuminazione pubblica del comune del capoluogo di Regione si rinnova la pubblica illuminazione del comune di Catanzaro con l'avvio del nuovo servizio di gestione che prevede anche l'avvio dei lavori di efficientamento che porteranno alla sostituzione di un nutrito numero di lampioni con sorgenti led di ultima generazione ad alta efficienza che consentiranno di incrementare del 55% il risparmio energetico intanto i dati nazionali sul caro energia sopportato dai comuni sono impressionanti chiunque li può consultare Catanzaro ha avuto un incremento sulle bollette del 76% che è un dato che può far spavento ma è un dato confortante perché ci sono altri comuni importanti del sud e del nord che viaggiano intorno al più 160% questo vi fa capire lo sforzo che noi stiamo facendo per contenere i costi ma anche l'impossibilità da parte delle amministrazioni comunali di sopportare senza correre il rischio di pregiudicare dei servizi essenziali quello che sta avvenendo non è possibile immaginare che questa crisi venga affrontata soltanto con i risparmi bisogna mettere in campo dei progetti l'efficientamento energetico è sicuramente una delle nostre priorità ricorderete che noi abbiamo puntato soprattutto sulle scuole ma a breve partirà anche i progetti di efficientamento energetico del Politeama per esempio in questo quadro è ovviamente molto importante quello che avviene oggi un nuovo servizio di illuminazione pubblica che non è soltanto il cambio da un gestore all'altro ma è anche un cambio di marcia che noi abbiamo fortemente voluto perché quello che noi abbiamo chiesto al nuovo gestore è anche quello di mettere in campo tutte le azioni che possano consentire per l'appunto di migliorare quello che è già stato migliorato in tempi recenti ma che non possiamo considerare sufficienti il nuovo sistema prevede anche la possibilità per i cittadini di segnalare guasti agli impianti di illuminazione anche attraverso il proprio smartphone tutti quanti possono dire qual è l'impianto rotto e si può intervenire in un tempo reale quindi questa secondo me è una rivoluzione che ci porta nel senso della trasparenza nei confronti della popolazione Sui finanziamenti relativi ad Agenda Urbana si registra l'intervento dell'euro parlamentare Laura Ferrara che lamenta ritardi l'esponente del Movimento 5 Stelle torna a sollecitare la Regione Calabria dei comuni sulla strategia di sviluppo urbano sostenibile vediamo Agenda Urbana in Calabria continua ad accumulare ritardi la certificazione della spesa non avanza e manca meno di un anno alla chiusura del programma così l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara torna a sollecitare Regione e Comuni sulla strategia di sviluppo urbano sostenibile nell'ultima risposta alla mia interrogazione fa sapere Ferrara la Commissione mi informa che in base alle informazioni presentate dagli enti regionali in occasione dell'ultimo comitato di sorveglianza fino ad ora non risulta completato alcun intervento riguardante i centri urbani incluso nel programma operativo regionale della Calabria 2014-2020 le spese certificate fino alla fine del mese di giugno 2022 legate a questa strategia ammontano 3,72 milioni di euro Giova ricordare, sottolinea l'euro parlamentare che alla strategia di sviluppo urbano sostenibile inizialmente erano stati destinati 191 milioni e vi rientravano oltre ai centri urbani di dimensione regionale quelli di minori dimensioni tuttavia il finanziamento per i centri urbani di minori dimensioni Crotone, Vibo Valencia La Mezzaterma e Corigliano Rossano e Gioia Tauro è stato integralmente riassegnato ad altre priorità i progetti relativi alle aree di maggiore dimensione ovvero città di Catanzaro area urbana di Cosenzarende e città di Reggio Calabria dal 2021 continuano ad avanzare lentamente tanto che ad oggi la spesa è cresciuta solo di poche decine di migliaia di euro a questo punto potrebbe risultare particolarmente difficile riuscire a certificare le restanti risorse poco meno di 90 milioni da qui alla fine dell'anno termine ultimo per la certificazione delle spese a valere sul POR Calabria 1420 Alla provincia di Cosenza è partito il ciclo di incontri rivolto agli studenti nella prima iniziativa si è discusso della violenza sulle donne vediamo Promossa dalla provincia di Cosenza ha preso il via una serie di incontri culturali che hanno come scopo quello del superamento di una subcultura radicata e che sfocia spesso in atteggiamenti mafiosi a scapito dell'immagine della donna sempre più oggetto di una violenza che ultimamente non trova uguali Le resistenti, il coraggio delle donne contro la violenza di genere e la subcultura mafiosa questo è il titolo del primo incontro che ha avuto luogo nel Salone degli Specchi della provincia con gli interventi alla presenza del prefetto Vittoria Ceramella il presidente della provincia Rosaria Soccurro di rappresentanti delle forze dell'ordine, della stampa e dello spettacolo è importante parlarne e parlarne tutti i giorni dell'anno non soltanto in alcune date e parlare ai giovani perché poi le scuole rappresentano il luogo della formazione ma anche il luogo della formazione del senso civico quindi l'educazione anche a quello che è il senso della prevenzione e partendo da lì con le istituzioni, con le forze dell'ordine che sono quelle che poi attuano non solo alla repressione ma potrebbero aiutarci anche a prevenire e noi vogliamo farlo, vogliamo farlo lanciando anche dei messaggi quello delle donne, delle donne resistenti con dei messaggi importanti e chiari che proprio partendo dai giovani vuole poi arrivare alla comunità tutta Eventi come questi sono sempre importanti bisogna sempre parlare per far capire alle donne che c'è la possibilità di denunciare ovviamente è necessario che le donne abbiano contezza che possono far fronte a questa situazione attraverso un apporto costante e forte delle istituzioni e ovviamente è chiaro che come per coloro che collaborano e che fanno parte della criminalità organizzata donne che sono inserite in questo substrato anche qui occorre il dialogo, il confronto per far capire loro che devono denunciare ovviamente denunciare chi? spesso dei familiari e quindi non è facile per cui sta lì il compito delle istituzioni di far capire che possono farlo e che possono avere momento di accoglimento da parte delle istituzioni non solo nella fase iniziale della denuncia ma anche successivamente Un'intesa volta a migliorare i servizi formativi e informativi per gli studenti dell'Università Magna Grecia è stata siglata con la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valencia vediamo di cosa si tratta L'Università Magna Grecia rafforza la presenza nel centro storico grazie alla collaborazione garantita dalla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valencia attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa che punta a creare uno spazio destinato agli studenti che potranno facilmente usufruire di una sede di strumenti informativi anche al di fuori del campus universitario L'integrazione e la condivisione di progetti tra enti e istituzioni nella fattispecie tra la Camera di Commercio e l'Università Magna Grecia di Catanzaro oggi può fare la differenza perché la Camera di Commercio metterà a disposizione la biblioteca per l'accesso informatico ma anche per l'accesso fisico agli studenti utilizzando anche il sistema bibliotecario dell'Ateneo L'accordo prevede l'integrazione tra i sistemi bibliotecari dell'Ateneo e dell'ente camerale per consentire l'accesso a materiale bibliografico elettronico di area giuridico-economica, sociologica e biomedica direttamente all'interno della Camera di Commercio uno spazio di libero accesso agli studenti per consultare documentazione universitaria nella biblioteca dell'ente camerale dotata di una postazione internet dei servizi di lettura, fotocopie e prestito dei volumi Noi storicamente oramai siamo a dieci anni di presenza in questo Ateneo e abbiamo scelto da subito in modo convinto di stare nel centro storico perché per noi un'università che si occupa di problemi sociali di relazioni sociali come dire, in centro storico ci sta bene Finalmente c'è anche la possibilità di usufruire di questa sinergia con la Camera di Commercio con la quale peraltro anche in passato abbiamo avuto diverse esperienze positive e poter fare in modo che i nostri studenti si spostino di 100 metri, 150 metri per avere a disposizione circa 300 volumi che abbiamo fatto arrivare nei giorni scorsi e che da oggi trovano posto qui mi sembra un'ottima cosa Questo è un accordo importante non solo per gli studenti di sociologia ma per tutti gli studenti e per coloro che vogliono usufruire per via telematica, per via informatica di tutte le potenzialità della biblioteca dell'Ateneo nel centro cittadino perché non è riservato solo agli studenti certo, gli studenti che oggi a sociologia sono al centro hanno un apporto ma chiunque può venire e consultare a distanza tutto quello che offre la nostra biblioteca È dedicato a Giovanni Falcone il libro presentato a Cosenza da Claudio Martelli già Ministro della Giustizia L'iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione Giacomo Mancini e da diverse associazioni Vita e persecuzione di Giovanni Falcone L'ultimo libro di Claudio Martelli ex Ministro della Giustizia sulla storia di Giovanni Falcone è stato presentato dall'autore a Cosenza al Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile Nell'incontro si è discusso anche dell'attuale situazione politica in Italia della cattura del boss Matteo Messina Denaro e delle polemiche sulla questione che riguarda l'anarchico Alfredo Cospito che da più di tre mesi sta osservando uno sciopero della fame contro il mantenimento in vigore della legge del 41 bis ovvero del carcere duro nei confronti di mafiosi e sovversivi Io ho scritto un libro apposta non soltanto per rivendicare tutto ciò che di eccezionale non di buono di eccezionale ha fatto ma anche per assegnare le giuste responsabilità a quella parte dei suoi colleghi magistrati che come disse Borsellino avevano cominciato a farlo morire poi la mafia ha eseguito la sentenza come disse lo stesso Falcone ma quella sentenza era stata facilitata anche dal comportamento dei colleghi che lo disarmarono e lo degradarono C'è stata la tua prima reazione dopo aver appreso dell'arresto di Messina-Denari? Naturalmente un po' di soddisfazione per l'arresto certamente non c'è stato un controllo del territorio adeguato come si riteneva necessario poi si capirà meglio quali sono state le circostanze in cui è avvenuto e perché se è stato frutto di qualche soffiata di qualche violazione anche della privacy che riguarda gli ammalati o se come è stato raccontato frutto di un'indagine sui dati però a mia conoscenza non esistono registri dei malati oncologici perlomeno non nominativi 41bis ha firmato lei il decreto? Come l'ho firmato? L'ho fatto l'ho scritto di mio pugno insieme al compianto Lores D'Ambrosio e si è rivelato lo strumento più efficace nel contrasto a Cosa Nostra insieme naturalmente con le riforme del codice di procedura del codice sostanziale però l'arma del 41bis si è rivelata quella più efficace in assoluto È il momento del meteo Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì quando possiamo notare da questa immagine delle pressioni a livello europeo come l'Italia sarà terra di mezzo tra l'alta pressione azzorriana e correnti più fredde in discesa dalla Scandinavia verso tutta l'Europa orientale La nuvolosità ci conferma una giornata di bel tempo sulle nostre regioni a parte un fronte nuvoloso che si addosserà alle Alpi più settentrionali del nord-est In sintesi quindi una giornata che sarà di cieli sereni o poco nuvolosi dappertutto quel fronte nuvoloso è sull'Alto Adige con dei fiocchi di neve in quota e poi dal pomeriggio un po' di nubi basse anche tra Levante Ligure e Toscana ma senza precipitazioni Gli ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo È tutto grazie e buon proseguimento con noi di Esperia TV Grazie a tutti